Si sta svolgendo in queste ore l'autopsia sul corpo dello studente tredicenne morto nella mattinata di domenica presso la rianimazione del DEA del Vito Fazzi di Lecce, dopo cinque giorni di ricovero in seguito ad una caduta dalla sedia a rotelle con la quale era costretto a spostarsi a causa di una distrofia muscolare. L'episodio è avvenuto a Giordignano durante l'orario di uscita dalle lezioni. L'esame autoptico è stato disposto dal PM Alberto Santa Catterina nell'ambito dell'indagine aperta successivamente alla denuncia presentata dai genitori per far luce sulla dinamica del tragico incidente. Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo l'operatore sociosanitario di 29 anni, originario di maglie, delegato ad accompagnare a scuola lo studente che il 6 febbraio scorso era caduto dalla sua carrozzina. Intorno alle 13.30 circa, nel pomeriggio dello stesso giorno, in seguito al complicarsi delle sue condizioni di salute, era stato portato dai genitori per degli accertamenti inizialmente presso l'ospedale Veris degli Ponti di Scorrano, dal quale poi i sanitari hanno disposto il trasferimento presso il Vito Fazzi di Lecce, dove il suo cuore ha cessato di battere dopo cinque giorni a causa delle complicazioni neurologiche legate ad alcune fratture alle tibie. Il comune di Giordignano, intanto attraverso un'ordinanza firmata dalla sindaca, ha proclamato un giorno di lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del 13enne.